Questa ragazza ha sfidato sua madre in una sfida di disegno, solo che lei è una pittrice professionista. Inizia la ragazza colorando e divincendo la metà di una fragola e la base rossa, quella senza semi, è uscita benissimo. E devo ammettere che la parte della figlia è super realistica. E prima che finisca il video, se anche tu, come me, pensi che vinca la madre, clicca mi piace. Ma ora tocca alla madre, vediamo. E se la sfida iniziale era chi divingeva meglio la fragola, la madre ha voluto renderla leggermente più difficile, copiando esattamente lo stile della figlia. Il tocco della madre, però, secondo me, si vede nei punti luce intorno ai semi. E fammi sapere anche tu nei commenti cosa ne pensi dei tuoi disegni. Vi leggo tutti.